Benvenuti cari followers. Prima di entrare nei dettagli se siete interessati alle notizie sui terremoti in Italia, premete il tasto mi piace per questo video e iscrivetevi al canale e attivate la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere la notifica subito dopo. Ogni nuovo terremoto si verifica in Italia. Se la terra trema forte nel nord Italia la mattina di lunedì 13 novembre 2023. Sono circa le 9 e mezza del mattino. Secondo il centro sismologico europeo. Il terremoto è avvenuto in Piemonte, precisamente nelle Alpi al confine con la Francia, a 11 chilometri da Cuneo e ad una profondità di 3 chilometri dalla superficie terrestre. Secondo il centro europeo l'intensità del sisma ha raggiunto i 3 gradi della scala Richter. Fortunatamente questo terremoto non ha causato alcun danno, solo una lieve scossa durata pochi secondi e i residenti non hanno avvertito il terremoto perché è avvenuto nelle Alte Alpi. Fortunatamente questo terremoto è passato senza problemi.